Raccolte 500 firme, il comitato giù le mani dal fiume Entella le consegnerà a comune di Lavagna e regione Liguria per scongiurare una volta per tutte la realizzazione del muraglione. Eccellenza sanitaria, la battaglia del comitato assistenza malati tiguglio in difesa della nostra Asle, il 23 gennaio incontro pubblico all'auditorium San Francesco. Spacciatore in manette, la polizia di Rapallo ha tratto in arresto un uomo sorpreso in flagranza di reato. È arrivata la fiera, 500 bancarelle hanno pacificamente invaso il centro di Chiavari per la fiera di Sant'Antonio che si può visitare anche tutto domani. 3400 euro è la cifra dell'assegno consegnato oggi a seguito del service dei Lions per la messa dei poveri. Gita ad alta quota per gli amanti della montagna tutte le domeniche di gennaio aperta l'asseggio via Rio Freddo Prato della Cipolla con annesso rifugio. Buonasera ai telespettatori del Tg Tiguglio, dunque l'avete sentito nei nostri titoli. Sono state raccolte ben 500 firme dal comitato giù le mani del fiume Entella che adesso le consegnerà al comune di Lavagna e alla regione Liguria per scongiurare definitivamente una volta per tutte la realizzazione del muraglione. Il comitato chiede adesso un atto concreto e formale al sindaco. Vediamo. Il comitato giù le mani del fiume Entella ha raccolto circa 500 firme che ora presenterà al comune di Lavagna e anche alla regione Liguria proprio per sollecitare per l'ennesima volta affinché sia scongiurata l'opera del muraglione sull'Entella. E' così. E' una petizione rivolta al comune di Lavagna perché revochi quegli atti che permettono l'opera sul demanio comunale. Quindi l'inizio di quest'opera. Evidentemente la revoca di questi atti sarebbe il presupposto che fermerebbe l'opera e quindi consentirebbe di parlare di quanto è necessario fare per la medicazione del rischio geologico del nostro territorio. Ecco, voi ribadite ancora una volta quali sono le conseguenze che sarebbero devastanti. Sì, il muraglione innanzitutto rovinerebbe un territorio pregiato, uno dei pochi territori di vocazione prettamente agricola. E che bene che rimanga così. Inoltre avrebbe conseguenze dannose proprio anche dal punto di vista idraulico, anche perché è noto che le esondazioni del fiume Entella, quando ci sono, avvengono soprattutto nella zona precedente ai muri, quindi nella zona di San Salvatore e giù di lì. Evidentemente i muri sarebbero un ostacolo al rientro delle acque nell'avio del fiume. Quindi è un'opera che non solo è inutile, ma è proprio sbagliata, dannosa. Pertanto chiedete un atto concreto e formale al Sindaco per il ritiro della delibera? Certamente che se il Sindaco revocasse questi atti vorrebbe, come dire, aver vinto la partita. Ora, noi apprezziamo la disponibilità del Sindaco che in sbagliate circostanze ha sottolineato come quest'opera non risponda alle motivazioni per cui è stata progettata e quindi è proprio da rispingere in toto. E questo apprezziamo perché è un dato che sia il Sindaco, ma ormai io direi che in questi anni di militanza gran parte della popolazione, ma anche dei stessi amministratori, è difficile trovare qualcuno che difende ancora la logica dei muri. Tuttavia il procedimento avanzato dal punto di vista amministrativo fa sì che questa opera rimanga comunque incombente. Ed è per questo la motivazione per cui ancora il Comitato solleciti perché con l'arevoca di questi atti si vinca la partita. E quindi cominciamo a parlare seriamente di quanto occorre fare per la mitigazione del rischio idrogeologico del nostro territorio. E c'è un'altra battaglia in corso per sostenere il nostro territorio, in particolare sul fronte sanità. Arriva dal Comitato Assistenza Malattiti Guglio una proposta per evitare l'accorpamento con Genova e potenziare invece la rete ospedaliera dell'ASL 4 Chiavarese. È stato anche redatto un apposito documento che sarà presentato ufficialmente alle istituzioni ed analizzato nell'ambito di un incontro pubblico il prossimo sabato 23 gennaio alle 16 a Chiavari all'Auditorium San Francesco. Ma intanto sentiamo la posizione del Comitato. Battaglia del Comitato Assistenza Malattiti Guglio per salvare la rete ospedaliera ed evitare l'accorpamento dell'ASL 4 con Genova. Il Presidente Mordini presenterà alla popolazione l'apposito documento che è stato redatto durante un incontro pubblico che si terrà il prossimo sabato 23 gennaio alle ore 16 all'Auditorium San Francesco. Noi del Comitato vogliamo l'eccellenza degli ospedali. Per avere ospedali di eccellenza ci vuole una ASL di eccellenza. Quindi se noi finissimo nel labirinto delle ASL genovesi i nostri ospedali andrebbero in declino sicuramente. Ma figurati se succedesse questo sarebbe proprio assurdo. Questo bisogna che lo capiscano i cittadini che prendano parte, che ci seguano, che facciano di tutto, reclamino e si possono poi fare tante azioni in comune. Ecco nel dettaglio qual è la proposta per garantire l'eccellenza sanitaria nel Tiguglio secondo il Comitato. Bisogna creare un unico ospedale a lavagna generale dove ci sono tutti gli acuti, dove ci sono tutte le cose importanti con il pronto soccorso DEA di primo livello. Tutto quello. Mancherebbe solo la neurochirurgia. Mentre gli altri ospedali non si chiudono, si trasformano. Sestri Levante diventerà un grosso polo di distretto, ospedale di distretto con tante peculiarità e lo stesso Rappallo diventerà lo specchio di Sestri Levante. Chiavari rimarrà sede della Casa della Salute, ma poi tutto questo lo spiegheremo. Chi vorrà dei dettagli li daremo completamente. Vediamo la cronaca. La polizia di Rappallo ha tratto in arresto un 47enne italiano sorpreso nella flagranza del reato di spaccio di sostanza stupefacente. Gli uomini del commissariato hanno notato l'uomo cedere un involucro contenente 21 grammi di cocaina ad un acquirente. Sottoposto a perquisizione personale, è stato trovato in possesso di un secondo involucro con 10 grammi di cocaina e 965 euro in contanti. All'interno dell'abitazione sono stati sequestrati un terzo involucro con altri 5 grammi della medesima sostanza e ancora 7500 euro, sempre cifra in contante. Furto nel negozio per sop di Via Vinelli a Chiavari. Sul posto sono intervenuti i carabinieri. I gnoti l'altra notte, dopo aver forzato una finestra, una volta all'interno, hanno rubato 2700 euro in contanti. Indagini sono in corso per risalire ai ladri. Oggi e domani si svolge la fiera di Sant'Antonio a Chiavari. Noi questa mattina siamo andati a fare un giro tra le bancarelle. Oggi e domani si svolge a Chiavari la fiera di Sant'Antonio. Stamattina una giornata fredda a Mavella, ha già visto diverse persone girare tra i banchi posizionati in città. Gli espositori sono circa 500, un appuntamento sempre molto atteso, che richiama visitatori anche da località limitrofe. E come detto, i banchi dei venditori ambulanti si troveranno anche durante l'intera giornata di domani. Porchetta calda rossa e specialità gastronomiche sono in primo piano, sia come esposizione da parte dei venditori in buon numero, sia come scelta da parte dei visitatori, che non rinunciano a portare a casa qualcosa di dolce o salato, o addirittura degustarlo passeggiando tra le bancarelle. Che morse il gatto, che si mangiò il topo, che al mercato mio padre comprò alla fiera dell'est per due soldi. Un topolino mio padre comprò e venne il fuoco che bruciò il bastone, che picchio al cane. Che morse il gatto, che si mangiò il topo, che al mercato mio padre comprò alla fiera. Attenzione alle variazioni di percorso per chi decide di spostarsi in autobus. Nelle ore di punta il servizio è potenziato. Dalla vicina lavagna invece sono in tanti a scegliere di spostarsi a piedi, facendosi una bella passeggiata, approfittando del sole e scongiurando così il problema del parcheggio a seguito dell'ordinanza del comune, proprio per permettere lo svolgimento della manifestazione, che impone modifiche alla viabilità ed alcuni divieti per il passaggio alla sosta. E quando si parla di fiera i commenti si dividono soprattutto per quanto concerne l'esposizione vendita degli animali e conseguenti condizioni igienico-sanitarie in cui versano. Noi abbiamo chiesto un commento ed un parere ad un esperto. Ascoltiamo. Giorno di fiera, giorno di animali in cattività, se vogliamo dire così, chiusi in gabbia, di ogni genere e tipo. Io so che lei valuta la situazione di anno in anno. Qual è in realtà? Buona quest'anno. C'è il sole, almeno il freddo non sarà così intenso. Purtroppo, come sempre, sono animali trasportati in giro per l'Italia con poche precauzioni perché al mattino alle 7, 7 e mezza sono già fuori nelle loro gabbie al freddo. Questo è un problema. È un problema lo stress del trasporto che si ripete settimanalmente per questi animali ed è un problema che poi si ripercuote senza altro sulla salute di queste bestie. Il rischio è sempre quello di portare a casa animali che si ammalano dopo poco. Io dico sempre preferite l'allevamento, preferite il negozio, o meglio ancora, preferite i vari animali che sono in deposito nei canili della zona, gli animali che sono con le associazioni. Sono animali che sono senz'altro più riguardati di questi. Ci sono iniziative a livello nazionale, quantomeno legislativo, perché tutto questo finisca? Sicuramente ci sono delle leggi che vengono applicate. I controlli delle ASL sono sempre abbastanza efficaci, diciamo che tengono monitorata la situazione. So che ci sono sempre progetti di legge che prevedono di vietare questo tipo di commercio, però per adesso sono fermati a progetti di legge. Grazie a Dio i controlli dell'autorità sanitaria hanno limitato molto il fenomeno. certi episodi che vedevamo tanti anni fa, adesso non li vediamo da tempo. Però credo che ognuno ci possa mettere un po' di buon senso e capire che comprare un animale sulla fiera forse non è il massimo. Non è cronaca quella di cui sto parlando, ma è storia. Lei è anche stato minacciato da questi venditori. Sì, diciamo di sì. In seguito a un'intervista come questa qualcuno mi aveva detto che era meglio che non mi facessi trovare in giro. Intanto in occasione della fiera ci sono anche i volontari della Croce Verde Chiavarese presenti con una postazione di soccorso sanitario in via Brizzolare, altri si presentano equipaggio dotato di defibrillatore portatile al fine di intervenire tempestivamente per soccorrere in caso di emergenza, di necessità persone colpite da arresto cardiaco. Inoltre sono presenti, coordinati dal comando di polizia locale, dieci volontari del gruppo di protezione civile Prociv Arci con compiti di vigilanza e controllo della manifestazione. E ora parliamo di caccia. Interviene l'assessore regionale Mai sulla chiusura anticipata dal governo centrale. Valutiamo un ricorso in base ad elementi scientifici. Sentiamo. Prendiamo atto del provvedimento varato dal Consiglio dei Ministri e stiamo valutando un ricorso dal momento che siamo certi di essere nel giusto così come le altre sei regioni interessate dal commissariamento deciso dal governo sul calendario venatorio. Sono le parole dell'assessore regionale alla caccia, Stefano Mai, a seguito della decisione del Consiglio dei Ministri che ha decretato la chiusura anticipata al 20 gennaio invece del 31 della caccia al tordo Bottaccio in sette regioni Toscana, Umbria, Calabria, Puglia, Lombardia, Marche e Liguria. Abbiamo solidi elementi scientifici in base ai quali si determina che il passaggio di questa specie entro il 31 gennaio non coincida assolutamente con il periodo di riproduzione. Pertanto il prelievo venatorio fino a tale data non incorre in alcuna violazione della normativa europea in materia. Sappiamo di essere nel giusto il TAR della Liguria negli ultimi tre anni ci ha dato sempre ragione inoltre nella confinante Francia come nel resto dei paesi del bacino e del Mediterraneo sulla stessa specie il prelievo venatorio viene esercitato fino al 20 febbraio termina così l'esponente dell'ente genovese. Intanto su un altro fronte sempre la regione Liguria è disponibile ad attivare in ogni sede di propria competenza in particolare quelle con maggiore accesso di popolazione anziana come ASL, Ambulatori, Pronto Soccorso per diffondere messaggi di sensibilizzazione rivolti alla prevenzione del fenomeno delle truffe ai soggetti più fragili e deboli come gli over 65. Lo ha detto la vicepresidente e assessore regionale alla sicurezza e politiche sociosanitarie sogna viale durante l'incontro che si è svolto in prefettura cui hanno partecipato i rappresentanti di tutto il territorio. pensiamo possa essere efficace anche attivare nei percorsi di assistenza domiciliare una campagna informativa rivolta agli anziani con un'adeguata formazione del personale sociosanitario proposto infine la vicepresidente viale. Giornata della memoria per non dimenticare appuntamento domani a Santa Margherita Ligure alle 17.00 nello spazio aperto di Via dell'Arco presenta Marco Delpino un incontro insieme allo storico Giorgio Getto Viarengo. E vista la continua emergenza domani c'è di nuovo l'Avis per una raccolta straordinaria di sangue a Chiavari dalle 8.30 alle 12.30 in piazza Mazzini. 35 service club della diocesi si sono riuniti l'11 dicembre scorso per la quarta edizione della serata degli auguri con il Vescovo. Questa mattina è stato consegnato l'assegno da 3.400 euro. Direi che oltre che un buon incasso che è poi stato trasformato in buon acquisto di 3.400 euro e una tonnellata di beni alimentari che sono già stati forniti alla mensa subito nei giorni successivi alla cena che si è svolta l'11 dicembre diciamo che un ulteriore pregio di questo service è unire 35 realtà anche leggermente diverse da loro sebbene il denominatore comune sia lo spirito di servizio non solo in una serata di amicizia ma proprio in un periodo di lavoro e di organizzazione fianco a fianco organizzati in commissioni e in rappresentanti che si riuniscono periodicamente e tutto questo da luglio fino al service. Sono quattro le mense beneficiate diciamo così toccate da questo service giusto? Abbiamo cominciato quattro anni fa con la mensa dei frati Capuccini di Viale Tappani a Chiavari poi abbiamo proseguito di padre Lorenzo e poi abbiamo proseguito con fra Marco a Sestri Levante la tavola di San Francesco sempre i frati Capuccini l'anno scorso padre Teobaldo Santa Margherita Ligure sempre i padri Capuccini e quest'anno la mensa gestita dalle parrocchie in particolare da San Gervasio e Protasio con Don Stefano Curotto. E dall'anno prossimo si ricomincia il giro? Sì, ricominciamo con i frati Capuccini di Chiavari e quindi da luglio ricomincerà la macchina organizzativa. Quindi diventa un service che però sarà un discorso di continuità sia per quanto riguarda l'unione dei vari club sia per quanto riguarda i beneficiati. Sì, e poi anche la continuità nell'avere una serata in cui il vescovo riesce a incontrare tutte le realtà quindi nessuna esclusa e diciamo a dirci la sua opinione e a farci sentire apprezzati nella nostra attività di servizio anche proprio dalla diocesi. La nostra impostazione è più quella di invitare le persone a cena quindi vi sono delle persone che sono un po' coloro che ospitano e offrono la cena e poi gli ospiti, gli utenti che entrano. È un momento non solo per nutrire il corpo per mettere a tacere l'appetito ma anche per stare insieme, per relazionarsi per vivere un momento di dialogo, di fraternità. Il mio argomento ha fatto tappa a Chiavari il progetto di educazione alla sicurezza stradale rispetto alle regole Vinci la vita adottato da B. Solidale realizzato con la Polizia di Stato la Lega Nazionale Professionisti B e l'Associazione Lorenzo Guarnieri Onlus. Squadra, staff e dirigenti hanno partecipato all'incontro con il comandante della Polizia Stradale di Genova Alessandra Bucci e Ruggero Ferri comandante del distaccamento di Chiavari. È stata una giornata importante per la stradale per l'Entella, ha commentato la dottoressa Bucci questa collaborazione vuole stimolare spunti di riflessione sui comportamenti da adottare quando ci si trova al volante i calciatori sono testimoniali importanti rappresentano modelli per i giovani quando veicolano un messaggio costruttivo soddisfatto anche il direttore generale Bianco Celeste Matteo Matteazzi apprezziamo molto questo tipo di incontri i nostri calciatori sono spesso sulla strada per raggiungere le proprie famiglie e in generale la città d'origine rispettare le regole è importante sul campo e al volante questo incontro ha dato la possibilità di instaurare un dialogo serio e costruttivo Adesso torniamo ad occuparci della regolamentazione di sagre e feste di paese dopo Lavagna Confesercenti chiede un incontro con gli amministratori di Rapallo Sentiamo Dopo l'approvazione di un primo regolamento su sagre e feste di paese da parte del comune di Lavagna Confesercenti ha sottoposto una richiesta di incontro al comune di Rapallo per definire un provvedimento analogo quanto ottenuto a Lavagna è il frutto di un lavoro che abbiamo portato avanti insieme all'amministrazione negli ultimi due anni provvedimenti di questo tipo sono sempre più numerosi in tutta Italia a dimostrazione che adottare provvedimenti equilibrati ed efficaci è possibile spiega il segretario provinciale di Confesercenti Cesare Groppi in particolare con Lavagna abbiamo steso un regolamento teso a preservare nel contempo gli interessi di promozione del territorio e la valorizzazione dei prodotti e delle tradizioni locali la possibilità per le associazioni di volontariato di raccogliere fondi a scopi benefici la tutela dei consumatori e non da ultimo la leale concorrenza nei confronti dei pubblici esercizi ed il contrasto all'abusivismo durante gli anni della crisi i fenomeni di abusivismo e concorrenza sleale hanno raggiunto livelli insostenibili in quasi tutti i settori sostiene anche Enrico Castagnone coordinatore di Confesercenti Rapallo in particolare i pubblici esercizi si trovano anche a fronteggiare il fenomeno crescente dell'home restaurant e della somministrazione abusiva fatta da soggetti con autorizzazione all'attività artigianale o commerciale di vicinato o per la ricettività ecco allora la proposta elaborata per un corretto svolgimento delle sagre feste gastronomiche definizione delle attività temporanee di somministrazione alle quali si applica il regolamento che si rivolge non solo alle sagre propriamente dette ma anche a quelle feste, manifestazioni ed eventi che prevedono la somministrazione di alimenti e bevande e danno anche scopi commerciali limite al numero e alla durata degli eventi che possono essere organizzati in ogni mese dell'anno definizione dei requisiti per la somministrazione di alimenti e bevande in termini di disposizioni di legge sotto il profilo della sicurezza impatto acustico, igienico-sanitario e di adeguata formazione per il personale concertazione delle iniziative al fine di monitorare la proliferazione e valutare la concessione di eventuali deroghe al limite di una sagra per mese identificazione del tema della festa o sagra attraverso un menu che ne salvaguardi la tipicità sanzioni amministrative per i trasgressori di vieto di organizzare attività temporanee e di somministrazione nei tre anni successivi Ricordiamo la notizia di servizio adesso di viabilità fino al prossimo 14 marzo c'è il transito a senso unico alternato all'altezza della località Niasca lungo la provinciale 227 di Portofino il provvedimento è stato adottato dalla città metropolitana di Genova su richiesta dell'impresa che esegue i lavori per manutenzioni straordinarie alla facciata e alla copertura di un edificio a lato della strada dai semafori all'altezza del cantiere edile sono sempre in funzione ricordiamo la nuova iniziativa dell'agorà di Lavagna dopo aver promosso gli incontri tracce di impressionismo per approfondire l'argomento parte domenica 31 gennaio alla volta di Palazzo Ducale a Genova per visitare proprio la mostra dagli impressionisti a Picasso chi fosse interessato si può recare alle 13.45 in piazza Cordeviola a Lavagna per partire insieme con il Pullman le adesioni devono arrivare entro venerdì prossimo e parliamo anche della sottoscrizione a premi del CIF di Chiavari che comunica i risultati ottenuti sono stati raccolti 119 premi e collocati 5.120 biglietti dunque tutti quelli che hanno vinto devono ritirare i premi entro il 31 gennaio presso il club le arti si incontrano in via Entella a Chiavari nelle giornate di giovedì, venerdì e sabato dalle 10 alle 12 e dalle 16 alle 19 per gli amanti della montagna invece tutte le domeniche di gennaio è aperta la seggiovia Riofreddo Prato della Cipolla con annesso Rifugio sentiamo per gli amanti della montagna la seggiovia Riofreddo Prato della Cipolla è aperta tutte le domeniche di gennaio le corse singole ci sono alle 11, alle 12, 13, 14, 15 ultima salita e discesa alle 11 e 15, 12 e 15 13 e 15, 14 e 15 e 15 e 15 è bene specificare che le condizioni del manto nevoso sono insufficienti per sciare in ogni caso, come detto ci sono le salite e discese come avvenuto durante il periodo natalizio soltanto la domenica con appunto seggiovia in funzione e rifugio aperto per chi volesse scendere utilizzando la mountain bike che pagando il biglietto è possibile salire in seggiovia con annesso trasporto della bicicletta ovviamente occorre prestare attenzione alla discesa perché i percorsi non sono mantenuti così come accade d'estate intanto la notte scorsa a Santo Stefano Daveto e a Rocca la temperatura è scesa a meno 3 meno 4 a Cabanne di Rezzo Aglio meno 2 al Lago di Giacopiane 2 gradi a Borzone in tarda mattinata queste erano le immagini offerte dalle webcam al Prato della Cipolla sul Maggiorasca sul Monte Bue al Lago delle Lame e al Passo del Tomarlo un'occasione comunque per andare alla scoperta del territorio in questo periodo attraverso una gita ad un'escursione in famiglia o con amici restiamo in qualche modo in tema parliamo di turismo invernale arrivano i primi dati incoraggianti secondo l'osservatorio regionale per queste prime settimane del nuovo anno del 2016 vediamo sono più di 187 mila gli italiani che hanno iniziato il 2016 in Liguria lo rivelano i dati dell'osservatorio regionale che ha raccolto i numeri delle presenze turistiche dal 31 dicembre al 6 gennaio la Liguria si è confermata come una delle mete predilette nelle ultime vacanze natalizie con un più 3,74% di presenze in più rispetto all'anno passato a Genova in particolare c'è stato un boom di presenze negli alberghi è una partenza incoraggiante che deve stimolare tutti affinché questo trend positivo vada avanti per l'intera stagione turistica del 2016 dice il governatore Giovanni Toti questi numeri attestano ulteriormente che la campagna promozionale Liguria d'inverno ha avuto il successo che ci aspettavamo e che abbiamo tutte le carte in regola per farcela l'idea di fare sistema con le associazioni di categoria e di raggruppare sul sito turismo in Liguria.it tutti gli eventi presenti sul territorio durante le festività è stata una scelta vincente ha aggiunto l'assessore regionale al turismo Gianni Berrino il turista infatti ha trovato molti spunti per soggiornare più a lungo con una buona ricaduta su tutto il comprensorio la media è salita a quasi quattro pernotamenti in albergo parliamo adesso di presepi nel nostro territorio mentre questa sera si svolge la cerimonia per il concorso presepi Val Fontana Buona è ancora aperto il presepe del Brunzin via 20 settembre nei giardini della Torre del Borgo a Lavagna domani si può visitare con orario 10-12 e ancora 15-18 ed è possibile visitare anche il presepe che ogni anno realizza anche la Croce Rossa sempre a Lavagna invece gli amici del parco insieme al comune di Sestri Levante aspettano tutti domani dalle 15 presso il parco di via Tino Paggi per salutare insieme la partenza della Befana il programma prevede naturalmente giochi per bambini regali con la calza dolce della Befana musica con Mauro DJ trucca bimbi cioccolata calda per tutti i partecipanti sottoscrizione a premi e servizio bar bene con questo appuntamento ci salutiamo grazie per essere rimasti con noi anche questa sera vi lascio al meto la programmazione della rete vi ricordo che domani c'è il TG7 e vi ricordo anche che potete rivedere intanto questa sera in replica il TG alle 20 e 20 sul canale 117 Tguglio TV trovate le notizie anche sul nostro sito www.antellativ.net sulla nostra pagina Facebook su Twitter e trovate il TG Tguglio anche sul canale YouTube allora è davvero tutto ancora grazie per l'attenzione una buona serata previsioni per domani domenica 17 gennaio un'altra bella giornata di sole dalle caratteristiche marcatamente invernali con forti venti settentrionali e temperature piuttosto rigide possibili locali gelate e notturne nell'interno venti settentrionali rafficcati inizialmente moderati o forti in temporanea tonazione fino a deboli e moderati nelle ore centrali mare in calo fino a poco mosso a Ponente tra mosso e poco mosso a Levante umidità su valori bassi le temperature previste sulla costa tra 4 e 14 gradi nell'entroterra tra meno 2 e 12 gradi previsioni per lunedì 18 gennaio la giornata inizierà all'insegna del cielo in prevalenza sereno con temperature rigide ma nel pomeriggio la rotazione del flusso dei quadranti meridionali porterà un progressivo aumento della nuvolosità venti inizialmente deboli o moderati settentrionali con rari rinforzi in rotazione da sud sud-est mare da mosso a poco mosso umidità su valori medi le temperature previste sulla costa tra 4 e 12 gradi nell'entroterra tra meno 4 e 9 gradi grazie a tutti